Da dove comincio? La prima cosa da sapere è che mia madre mi chiamò Enola. Insistette su questo, davvero. So che ho un nome insolito, ma mia madre è un'amante dei giochi di parole e il mio nome, letto al contrario, significa sola. Lei mi diceva continuamente, stare molto bene da sola Enola, eppure stavamo sempre insieme. Mio padre morì quando ero piccola, non ricordo nulla di lui. E i miei fratelli se ne andarono di casa poco dopo, li ricordo a malapena, perciò restammo solo noi due, ed era meraviglioso. Non era una madre ordinaria, non mi insegnava a fare con la linea di conchiglie o lavorare all'uncinetto. Mi insegnava altre cose, la lettura, la scienza, lo sport. Ci allenavamo molto, sia fisicamente che mentalmente. Diceva che eravamo liberi di fare tutto a Fendel. E che potevamo essere chiunque.